Cominciamo subito la discussione con i primi che avevamo previsto. Sarebbero intervenuti e quindi volco. Sì, sì, va bene. Va bene? È rosso. Allora, caro Morris, compagno di strada, io ho pensato di farti queste domande. Allora, prima ha a che fare con l'istinto e pulsione. Anche se non è esplicito in questo testo, è più chiaro nel libro. Allora, Freud usa il termine istinto soprattutto nel mondo animale. Altrimenti usa il termine trip tradotto in italiano come pulsione. Sulla traduzione del termine trip ci sono state controversie in quanto la prima traduzione del trip di Strachey sarebbe stata instinct e successivamente riformulata come drive. In Francia è successo l'opposto, esisteva solo pulsione e l'istinto è scomparso. Allora, io volevo sapere quanto è stata influenzata la psicanalisi cosiddetta contemporanea della quale abbiamo sentito parlare dalla traduzione di Strachey, del termine freudiano trip. First of all, thank you very much for inviting me. I'm honored to be here. Secondly, I'm so sorry that I don't speak Italian. Grazie per aver l'invitato. Secondo, mi dispiace molto di non parlare italiano. My apology for that. And I also want to thank Dr. Marini for that heroic reading of the paper. With regard to Mariano Bolko's question, what comes to mind is actually Bolby's critique of Freudian drive theory. And the way Bolby interprets the distinction between instinct and drive, Il modo con cui Bolby interpreta la distinzione tra istinto e pulsione Lui concepisce la pulsione come una propulsione di una forza energetica Part of Freud's energetica model. And he distinguishes that concept Distingue questo concetto From instinct taken from Da quello distinto The field of ethology, for example Il campo dell'ethologia The work of, for example, of Tim Bergen And Lorenz And in that In that Context In quel contesto Instinctual tendencies Are selected out by evolution Le tendenze istintive Sono selezionate dall'evoluzione And they are Expressed as behavioral Tendencies Sono espresse in tendenze comportamentali For example The young infant Whether it's an animal Or human Being born with a tendency To seek proximity To the mother And it seems to be That That's probably A useful way Of understanding The concept of instinct Un modo utile Per capire Il concetto distinto And Of course E naturalmente One of the problems In contemporary Psychoanalysis Uno dei problemi Della psicoanalisi contemporanea And I'm thinking Of the work Of the relational And self-psychology For example Also Intersubjective theory E che hanno Totalmente abbandonato Ogni concetto Sia di istinto Che di pulsione As reflected For example In a thoroughgoing Social construction Of mind Per esempio Questo si vede Nella costruzione sociale Della mente And with regard To Mariana's Comment About Freud Seeing In Riguardo All comment Di Mariana Rispetto A Instinct As quote Animal Like Che concepiva L'istinto Come animale Mi sembra Che una visione Contemporanea Vederebbe La nostra natura sociale Cioè Di relazionarsi Con gli altri Non come una Animalistica Un istinto animalistico Ma come una cosa Profondamente umana In other words In contrast To Freud Who saw Diversamente da Freud Che vide Who saw Social nature As a thin Veneer La nostra natura sociale Over the Animal-like Deeper Structure It seems to me That's no longer Tenable Because we are As much Instinctually Social As we are Socialmente Istintuali Istintivi Che In other words Our social nature In other words La nostra natura sociale Is profoundly Instinctual Inborn Distintiva Rather than A layover From social learning E non soltanto Derivante Dall'apprendimento I don't know If that responds To your Question I just want To add one thing Voglio aggiungere una cosa It seems to be That Despite all The different schools And so on Nonostante La diversità Tra scuole There are elements Of psychoanalytic Theorizing That represent Genuine progress E sono elementi Nella teoria Psiconolitica Che rappresentano Progressi genuini E non posso pensare A nessuna teoria Psiconolitica Che sarebbe accettabile Non riconoscesse Il fatto che siamo Profondamente Sociali Come individui Ma questo non significa Il fatto che invece Come è purtroppo Significa spesso That we ignore That we ignore Sexuality And aggression Do we ignore La sessualità And aggression And of course That's the beginning Of a whole other Story Di un lungo discorso Però Grazie Allora vado avanti Con un altro discorso E qui Tocco Rorti Che è stato Più di una volta Nominato Nel tuo paper E anche nel libro Allora Il dualismo Tra obiettività E solidarietà Di Rorti È stato Duramente Criticato E considerato Un'illusione E il suo pensiero Come follia Del nichilismo Si potrebbe dire Lo stesso Della sostituzione Della scoperta Di verità Su sé Della psicanalisi Classica Con la relazione Terapeutica E esperienza Emozionale E correttiva Della psicanalisi Contemporanea Vado Aspetta Questo è un Sono A B B della stessa Allora Da ciò deriva Un'ulteriore domanda La sostituzione Dell'esame Di realtà Con costruzioni E narrative Interpretative Non rischia Di trasformarsi In una specie Di follia De A proposito Di ciò Anna Ren Dice Il suddito ideale Del regime Totalitario È un individuo Per il quale La distinzione Tra vero E falso Non esiste Fascinating Series of Questions And also Challenging Domanda Infascinanti Ma anche Una sfida Sono contento Che hai guardato Il dualismo Non necessario Tra oggettività E solidarietà È un parallelismo Questo Tra il dualismo Tra la relazione Terapeutica Da una parte E l'insight La consapevolezza È una falsa dicotomia Sfortunatamente Riflette Quella che è una caratteristica Disturbante Dello sviluppo Psicoanalitico E precisamente Gli eccessivi Oscillazioni Del pendolo Il fatto è che E ho discusso Questo Non ricordo Adesso dove Un'interpretazione Che porta A una comprensione Di sé Questa è una profonda Esperienza Emozionale Correttiva E all'inverso Il modo con cui L'interpretazione È ricevuta Dal paziente È una funzione Del tipo di relazione Che c'è In quel momento Quindi Non è necessariamente Così La relazione La relazione Terapeutica La ricerca Di conoscenza Vanno Mano nella mano Vanno insieme Non deve scegliere L'uno L'altra In fact Non ho mai capito Quando Parla Degli effetti Della relazione Terapeutica Quando interagisci Con un paziente Cosa dici? Stiamo avendo Una relazione Terapeutica? Chiaramente Il concetto Di relazione Terapeutica È un veicolo In cui Avvengono Altre cose Altre attività Non è una categoria In se stessa Ma è una categoria Vuota Non so se Sono stato chiaro E infine Il commento Di Swan Haarendt Il rapporto Tra Esame di realtà E costruzione Tutte le nostre percezioni Sono costruzioni Interpretazioni Il problema è A cosa rispondono Queste costruzioni Non voglio Adesso entrare Nella questione Grossa Della storia Della corrispondenza Della coerenza Eccetera Trovo che Il commento Di Marianna E secondo La Arendt È molto interessante Questo commento Che nel regime Totalitario Si fanno Leva sul fatto Che non c'è La differenza Tra fantasia Tra fantasia e realtà E questo Cosa è Sì Questo è un profondo commento Entra questa nozione C'è l'idea Del rendere conto Delle cose In un certo qual modo Dobbiamo dire che anche se tutte le nostre Costruzioni Sono costruzioni Dobbiamo avere dei criteri In order to Sift out One set of Constructions From another Per discriminare Un insieme Una serie di Assunzioni Delle altre Piccola Ultima Su cui penso Che potrei Dire molto Invece Quando parli Della teoria Monopersonale Usi L'aggettivo Presunta O cosiddetta Teoria Monopersonale Perché usi Questi Aggettivi Presunto Cosiddetto Non è sicuro Non ero 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 Un altro commento Sulla Costruzione Non ero Un'altra cosa Sulla questione Della costruzione Non ero Non ero Non ero Analyst Quale Il loro Teoretico Persuasion Non conosco Alcun analista Qualunque teoria Abbia E dice a un paziente In prima seduta Noi non ci interessa La verità di chi sei Noi ti offriamo solo Delle narrative utili E delle costruzioni Interessanti Io penso che se questo Fosse detto Al paziente Il paziente Se ne andrebbe Direbbe grazie Me ne vado Quindi c'è una tale differenza Tra quello che uno fa Nella pratica E quello che uno scrive E quello che uno scrive Teoricamente E' un sintomo Di un problema E uno Non dovrebbe essere Complacente Di questa discrepancia Se tu non puoi dirlo Un paziente Ma puoi solo dirlo Su un giornale C'è qualcosa che non va Particularly Given Psychoanalytic values Particolarmente La luce dei valori Della psicanalacia Penso che ho detto La cosiddetta Perché è parte Questo problema Di quella falsa dicotomia In other words I think Even within So called Classical One person psychology Penso che anche Nella Psicologia monopersonale Classica Sono molti elementi Sono molti elementi Of relational Two person considerations I think that's why I said that Va bene Io infatti Volevo dire proprio Che secondo me Non è mai esistita Una psicanalisi monopersonale Tantomeno Una bi personale Non lo so Mi pare Una fantasia Una Una creazione Una creazione Istituzionale Più che altro Ecco Grazie Meneguz Io vorrei farle una domanda Sull'apertura Della teoria psicanalitica E contributi Non psicoanalitici Le quattro psicologie Che definiamo Psicanalisi contemporanea Psicologia intersoggettiva Relazionale Dell'attaccamento Del sé Hanno attinto molto A teorie Extracliniche Ed extrapsicoanalitiche Come la teoria generale Dei sistemi La seconda cibernetica L'interazionismo simbolico Il costruttivismo sociale La psicologia Umanistica La psicologia cognitiva E le ricerche Sulla relazione Madre-bambino Le ricerche sistematiche Sull'infanzia Alla fine Questi principi Hanno sostituito Completamente I principi fondamentali Della psicoanalisi Ora Vorrei chiederle Se secondo lei Questo è inevitabile O se c'è una possibilità Di evitare Questo rischio Anche questa è una domanda difficile Non sono sicuro Delle teorie Delle teorie Extrapsicoanalitiche Per esempio Molti psicologi del sé Citano il lavoro Cite il lavoro Di ricercatori Sull'attaccamento Per mostrare che La sensibilità materna È importante Per un attaccamento sicuro Ma poi assumono che Quello che la sensibilità materna È equivalente a L'empatia Il rispecchimento empatico Anche se vi sono delle somiglianze familiari Come dice Wittgenstein Tra queste due Ci sono importanti differenze Riguardo alla seconda domanda I pericoli Che i contributi non psicoanalitici Possono influenzare La teoria psicoanalitica Troppo Che è certamente un pericolo Che tu senti dire Negli istituti psicoanalitici E probabilmente Il punto di vista Però è molto chiaro E probabilmente Non è molto popolare Io penso che In order for psychoanalytic Theorizing To prosper Affinché la teoria psicoanalitica Possa prosperare Dovrebbe essere sempre più aperta Ai reperti Relevant findings Importanti di discipline Di discipline importanti Fuori dalla psicoanalisi Quello che ciò significa Tra l'altro Penso che debba venire Anche il contrario Ma affinché gli inseriti psicoanalitici Influenzino Sempre la psicologia cognitiva Anche la psicologia cognitiva Dovrebbe essere Subitamente aperta E rinca Per essere capace Di Assimilare degli inseriti psicoanalitici Ma per me La visione ideale Dovrebbe essere La scomparsa Di ogni differenza fondamentale Tra la psicologia E la psicoanalisi Ma questo significherebbe Una visione molto diversa Di quello che è la psicologia oggi Per me non è un pericolo Uno sviluppo ideale Grazie Ancora una brevissima Secondo lei Le modifiche apportate Dalle quattro psicologie Della psicoanalisi contemporanea Rivoluzionano l'impianto Della psicoanalisi tradizionale Alle sue fondamenta Secondo lei Se è così Di conseguenza È necessario Che queste nuove Queste psicologie Ridefiniscano la loro identità Rispetto alla psicoanalisi Un'altra domanda interessante Un'altra domanda interessante Penso che per certi versi Alcuni sviluppi Della teoria psicoanalitica Contemporanea Do challenge Di fatto Some basic tenets Of let's say Traditional theory Dettono in crisi Alcuni fondamenti Della psicoanalisi Tradizionale Però Ci sono anche grandi convergenze Tra la teoria contemporanea E quella classica Che sono oscurate Da diversi linguaggi E teorie Diverse fedeltà Come quelle dei partiti Per esempio Nel mio libro parlo di un tema trasversale Virtually All Of the Both Classical theory And contemporary theories Sia quella classica Che quelle contemporanea Con linguaggi molto diversi E questo tema comune Is Viewing One core aspect Of psychopathology Vedere un aspetto nucleare Della psicopatologia As a clinging To early object ties Come quello di essere legati A oggetti interni primitivi As well as Legati primitivi Così come A modalità maladattive Di interazione Now That wouldn't be apparent If you look Just at the different languages Questo non esulta chiaramente Se guardi Le linguaggi diversi Penso che sia un elemento comune At a level Of a deeper structure And there are other examples Of that Della profonda Della struttura profonda Delle teorie E mi sembra che If I live long enough Will be my next book Sarà il mio prossimo libro Se viverò abbastanza Tanto ne ha fatti altri due Ma hai detto dopo questo qua I vorrei mettere poco Una delle idee fondamentali Della psicoanalisi Che sono nucleari Che meritano D'essere conservate Quali sono le formulazioni Che devono essere abbandonate Alla luce Delle prove Che abbiamo oggi Quali devono essere modificate And not looking at it At the point of view Of different theories But from the point of view Of different core concepts And formulations Senza guardare Alle teorie contemporane Ma alle formulazioni di base I think that's an exciting idea And I An idea molto Enthusiasmante Per me Spero di poterla fare un giorno C'è un altro aspetto Della domanda Che forse non ha colto No Veramente mi ha soddisfatto La risposta Per un'altra cosa Trovo molto incomprensibile I was re-reading Greenberg and Mitchell's 1983 book Which is a wonderful book Il famoso libro De Greenberg e Mitchell Le relazioni oggettuali In le teorie psicoanalitiche Quello dell'83 Che è un libro Molto bello E importante E uno dei temi coerenti Che ci sono sempre In questo libro È che le teorie psicoanalitiche Diverse Are incommensurate Non additive Sono incommensurabili Staccate Non producono Una conoscenza Un progresso cumulativo They represent Different worldviews So you have to choose This one or that one It's like Demanding that you vote For this party Or that party È come chiedere Che voi votiate Per un partito O per l'altro I see that As the absolute Death of our field If that The view prevails Io penso che se questa concezione Prevale Sarebbe la morte Del nostro campo So And there are two Anche questo è una visione non popolare Anche questo è una visione non popolare La visione attuale è quella di esaltare il nostro pluralismo creativo Invece Per me La migliore immagine è la torre di Babele So I think there's a great deal of opportunity For cumulative progress Convergent Invece ci sono molte opportunità per un cumulo di conoscenza But what's required it seems to me Quello che serve per fare questo Is having a primary loyalty C'è psychoanalysis Not to this or that school Una fedeltà primaria alla psicoanalisi Non a una o l'altra scuola Grazie Perfetto Quindi ora Innanzitutto Speriamo Che sia in grado di scrivere Altri tre libri Perché Quando era a Zurigo Era venuto Spitz Aveva 92 anni E venne a fare un seminario In cui diceva E ci spiegava I suoi progetti di ricerca Per i successivi dieci anni E' morto l'anno dopo Però Si era fatto il progetto per dieci anni E noi speriamo che Il tuo progetto mentale He was 42 I'm not Questo è il punto Quindi Aspettiamo altri due libri Vi rendete conto Anche dalle domande Che sono state fatte Che gamma di problemi Ci sono dentro Ma qui Voglio che venga sottolineata Una cosa Perché per noi E per il nostro gruppo È fondamentale Noi separiamo nettamente La questione psicoanalitica Non la psicoanalisi Dagli psicoanalisti Alias E mi rifaccio qui Alla domanda Posta Da Meneguz Sul confronto Con tesi Con tesi Extraanalitiche Quindi In che misura Se ne tiene conto Per mostrare Un aspetto storico Molto evidente Fino a dopo La seconda guerra mondiale Gli psicoanalisti Erano una comunità Relativamente piccola Che a partire da Freud Si confrontava Con tutto quello Che c'era Nell'universo scientifico Di allora Quindi era gente Che conosceva La neurologia Dell'epoca E ci si confrontava Conosceva Le posizioni Positivistiche E ci si confrontava Conosceva Le tesi Della sociologia Con Simmel Max Weber E ci si confrontava E soprattutto Conosceva La perfezione E c'era Il confronto Anche su quello Con tutte le questioni Della psicologia sociale E della costruzione sociale Della mente Alias Mead Herbert Mead Quindi Era gente Preparata In maniera Che chiameremmo Interdisciplinare Dopo comincia Il boom Della psicoanalisi In particolare Negli Stati Uniti E lì Per esempio Io penso In un modo Un po' diverso Da Morris Sulla fortuna Della psicoanalisi Di quegli anni Del boom Quando di colpo Da 236 analisti Diventano migliaia Nel secondo Dopoguerra Non sto a dire I motivi Per cui questo accade Accade che si producono Psicoanalisti E che diventa Importante La forza istituzionale Che lo era Molto meno Prima E quindi Diventano Dei dottrinari Di appartenenza Ai vari istituti E diventano Degli ignoranti Paralleli Quindi il fenomeno Di adesso È Come pensano Gli analisti Contemporanei Che competenze Che competenze Hanno E che gamma E se conoscono Per esempio Le questioni Di costruzione Sociale Della mente Che sono Le questioni Dei primi Del novecento E che si dovevano Contrapporre Se la mettiamo Così Con una Teoresi Sociologica Che si Contrapponesse All'ipotesi Marxiana Di impossibilità Di costruzione Dell'uomo Nuovo Senza La rivoluzione Prospettando Le teorie Varie Sulla Personazione Per cui Per esempio Lo stesso Weber Arriverà a dire La società È l'altro nome Di Dio Allora O si ha Una visione Complessiva Dello sviluppo Della cultura In tutti i suoi aspetti E dello sviluppo Delle discipline Scientifiche A cui afferisce E da cui Proviene Gli interrogativi Che pone La psicoanalisi Oppure Parliamo Di Dei Appartenenti Appartiti A quello che sia Ma soprattutto Di una serie Di ignoranti Colti Questa è come Io vedo La questione adesso Perché Sulla faccenda Di Stone Ha una posizione Un po' diversa Perché la fortuna Del dopoguerra Non fu Tenete presente Questo sviluppo Di psicoanalisi Negli Stati Uniti Avviene Avviene Con una Iperproduzione Rapidissima Tant'è vero Che erano felici Di poter dire Adesso avremo I normali Li potremo Selezionare Rispetto alla Gabbia di Matti Che avevano fatto Cose infernali Negli anni precedenti Alle questioni Litigi Eccetera Tenete presente Che da quel momento Si è andata A vedere L'età Degli psicoanalisti Che hanno prodotto Le cose più originali Fino appunto Agli anni 40 E gente Che produceva Idee originali A 30 anni 24 Rank Cominciò a lavorare Con Freud Da 17 anni E non aveva fatto Manco l'analisi Le analisi Erano tentativi Di far Incrociare La persona Col fenomeno Dell'inconscio Adesso A 50 anni Fanno gli allievi Degli istituti Di psicoanalisi In attesa Di diventare Membri straordinari Questa è la questione Psicoanalitica E quindi esistono Gli psicoanalisti Contemporanei Che a mio avviso Qualunque cosa Dicano Non hanno nulla A che fare Con gli psicoanalisti Di prima Questo è come La penso Sulla questione Psicoanalisi Contemporanea Poi Si tratta E questo E il cammino Che ci ha portato A fare Moris È appunto Un cammino Lungo I vari filoni Delle varie Come ha accennato Prima anche Menegus Le varie Psicologie Con Rappaport Si era parlato Di punti di vista Teneva conto Perfettamente Di quello Che svilupperà Berta Lanfi E io ho fatto pubblicare In Italia Il libro Di Nicolás Rizzo Sulla Teoria Generale Dei sistemi Psichiatria Con l'Anna Feltrinelli Queste cose Fanno parte Dell'ovvio Della cultura In Rappaport Uno dei primi Punti È quello Della teoria Organismica E quindi Ogni comportamento È all'interno Di un'organicità Di sistema Quindi Quello che è L'ovvio Del pensiero Scientifico È stato Frammentato Per cui C'è voluto Poi un Mitchell Che dicesse Vedete Che qua Ci sono varie cose Che forse Conviene mettere Un po' assieme Quindi È un fenomeno Da vedere In chiave Di sociologia Della conoscenza E non Di sviluppo Scientifico Questo è il mio pensiero Da sempre È quello che abbiamo Cercato di rappresentare Con la nostra azione In Italia Circa il discorso Di Stone Nel dopoguerra Non era La ricerca Dell'alterità Che crea Il successo Perché Si sviluppò Come sappiamo La società Affluente E la società Del benessere E quindi L'attrazione Era Per la realizzazione Di sé Non per trovare L'altro Dentro di sé Dimensione Esistenziale Che negli Stati Uniti Arriva Con le prime Traduzioni Fatte da Rollo May Il libro Existence Dove Traducono I testi Di Erwin Strauss Di Binswanger E quindi Comincia A venire Anche Le premesse Di un discorso Sempre più Esistenziale Che è quello Che comincia A comparire Invece Nella psicoanalisi Contemporanea Quando Arriva la crisi E quindi Nel momento Della crisi Si scopre Il neomanesimo Questa è la questione Successiva Quindi A mio parere Appunto Vanno differenziati Due momenti E quindi Differenziato Nettamente Cosa che abbiamo Sempre fatto Psicoanalisi Da Un tipo Di professionista Che si chiama Psicoanalista E che È legittimato Proprio Dall'appartenenza A un filone Di pensiero Alla ignoranza Di quello Della porta Accanto Questo è il punto E che intendevo dire Proprio come Il messaggio Che cerchiamo Da anni Di dare E di come Appunto Quello che adesso Dobbiamo chiamare Interdisciplinarità Faceva parte Dell'ovvio Di persone Che stavano In un ambito Scientifico Come Ogni fisico Conosce Le varie tesi Della fisica E come ogni chimico Conosce le varie tesi Perché è ovvio Quella era gente Che le teorie Del learning Le conosceva Alla perfezione E ci si confrontava E ne mostrava Le lacune Perciò Ho paragonato Il testo Di Morris A un pezzo Di Emmental In cui I buchi Sono altrettanti Importanti Della polpa E l'Emmental Senza polpa O la variante Tedesca Dell'Emmental Sono un'altra cosa Sono pragmatismo Volgari Paolo E ho tradotto E ho tradotto Di bene E naturalmente Informazioni Stimolato Nella misura in cui Ho capito Quello che ha detto Una è quando Prima mi mostravi Il libro di Hartman Del 27 Sui fondamenti Della psicoanalisi Vedi nell'index Indice analitico Di riferimenti A Lewin E Hartman Non si preoccupava Che fossero analisti O no Quindi lui traeva Da importanti figure E ovviamente Lo che ho trovato È il riferimento A George H. Mead Non capisco Come alcuna teoria Intersoggettiva Puede scrivere Sembra A Mead E ho chiesto Un'altra cosa E potrei Sto leggere Troppo in To what Galli Was saying Since I don't Vedo troppe cose In quello che ha detto Galli Since I don't Understand Italian This could be All fantasy So But I wanted To make a distinction Between Psychoanalytic Treatment And therapy On the one hand And psychoanalytic Theorizing About human nature About fundamental Aspects of being human Now here I have another Confession Devo farvi adesso Un'altra confessione The longer I have Worked clinically And observed People working clinically In supervision Più ho osservato persone A lavorare clinicamente Più mi convinco That the single Most important Factor Il fattore più importante Di tutti In therapeutic work Including therapeutic Effectiveness Nella clinica E nell'efficacia Della nostra clinica Is the personal qualities Of the therapist Sono le personalità Le qualità personale Del terapeuta And I doubt That theoretical Persuasion Has much Influence At all Dubito che le persuasioni Teoriche Abbano una grande influenza So And I also Remember Freud's concern That the That the therapy Would destroy The theory Destroy the science And he also Believed By the way That psychoanalysis Claim On posterity Would not lie Necessarily In it's Therapeutic Successes But in it's Theoretical Account Of human nature And I think There's A good deal Of truth In that But my point Is My point Is the following I don't know That one Theoretical Persuasion Matters That much And how One does Therapy Non penso Che c'entri Molto In convenzione Personale Quando uno Fa terapia But it sure As hell Matters Ma quello Sicuramente Importa In terms Of whether We have A adequate Theory That accounts For human Behavior Or human Nature Profound Deep human Problems Quando parliamo Della natura Umana Avere una Certa teoria Quindi Diciamo Una buona Badante Moltava Ha bisogno Di teoria O no Perché Dato Messa Così Siamo Un esercito Di 4 500 Mila Badanti A livello Mondiale Vi ricordate Quando è venuto Qua Kermag Ha parlato Molto Dell'approccio Relazionale Anche Dei Neobioniani E nell'articolo Uscito Adesso Sulla Rivista Che è Un po' Simile A questo Come Nel senso Che è un panorama Delle teorie psicoanalitiche Si sofferma molto su due teorie Quella relazionale E quella Neobioniana Come le chiama lui E critica abbastanza Ne ha colpito Vedere che nel libro di Morris Quello che è uscito adesso Fa un panorama Delle teorie Contemporanee E ignora Completamente L'approccio Neobioniano Che invece È importantissimo Nel mondo Tant'è Perché Kermag Lo prende Come bersaglio E anche in Italia È quasi Vincente Tra tanti I nostri colleghi Quindi mi chiedo Come mai Morris Tu non hai assolutamente Parlato di questo approccio L'hai totalmente Ignorato I don't know If he told you But I've been told That he will Ask this question Ok So I happen to have Spontaneously Prepared an answer Ok I understand That being And what could be called Neob Neobion Perspective Is now The rage In Europe And Latin America And it also is To a certain extent In the US Vedo che l'approccio Neobioniano È molto diffuso Adesso qui da noi In America Latina Anche in America Del nord Perché ha letto L'articolo nostro Tra l'altro Poi ieri Lui quello che è uscito Sulla rivista L'ha letto dall'inglese Per cui So Given the state of affairs Dato questo stato di cose One can ask As Paolo did Si può chiedere Come mai Why I don't discuss Beyond's theories In my book Perché non ho parlato Nel mio libro Una prima risposta Certamente non completa Is that I wanted My choices Of what to discuss Perché volevo Che la scelta Su quello Da discutere Sulle cose Da discutere To be determined Not by the latest Rage Or fashion Non fosse determinata Dall'ultime mode But by more Substantive contributions Ma da contributi Più sostanziali L'altra risposta Spero più adeguata Include the following Considerations Include le seguenti Considerazioni One Primo And I'm a little Anxious to even say this Sono un po' ansioso Persino nel tiro But one I find Bion's work In general Trovo il lavoro Di Bion in generale Too full of jargon Con troppo gergo Too obfuscating Troppo poco chiaro And too loosely linked To actual experience And clinical phenomena Troppo poco collegato Con l'esperienza reale E i fenomeni clinici Per esempio Although evocative Anche se molto evocativo Bion's formulation Of beta elements As raw Primitive Sensorial impressions Formulazione di Bion Degli elementi beta Che sono Sensazioni grezze And proto-emotions That need to be organized E proto-emozioni Che devono essere organizzate Interpercepts Cognizioni And affects Cetti, cognizioni Affettività Is simply not supported By what we know About perception From outside psychoanalysis Non è supportata Da quello che sappiamo Della percezione Fuori dalla psicoanalisi E questo Riferimento anche a quello Che diceva Mene Gutz In many In many ways Bion's distinction Between beta elements And alpha function La funzione di Bion Tra elementi beta E la funzione alpha Hawkins back to an early distinction Si rifà A una vecchia distinzione Between sensation and perception Tra sensazione e percezione Which proved fruitless Che si è rivelata In the history of psychology Non utile nella storia della psicologia Although Bion's pronouncements About the clinical situation Are seductive Anche se Le formulazioni di Bion Sulla situazione clinica Sono molto seducenti And are likely to attract Adherents E sicuramente attraggono Molti aderenti I find them Disturbingly arbitrary Le trovo Arbitrarie In modo un po' disturbante For example Formulating The dominant Unconscious meaning Based on the immediate experience Of the early stage Of the session Per esempio Determinare Subito All'inizio della seduta Lo stato del paziente Grazie All'immaginazione Del terapeuta Attribuire Contratransferment Attribuire Ai controtransferment Del terapeuta Entirely To the patient's Projective Identifications Direttamente Come valore Come identificazione Proiettiva Del paziente And The neo Bionian Concept Of ferro Of the waking dream E soprattutto Il concetto Neo-Bioniano Di ferro Del sogno E occhi aperti This is not The place To go into Detailed Criticisms Of these ideas Posso entrare qua Nella critica Dettagliata Di queste idee Beyond the general Criticism Of their Formulaic nature Oltre alla generica Caratterizzazione Di queste Formulazioni Come troppo Astratte Non so Ok However Just one more Specific comment And then I'm finished Un ultimo commento Poi finito The notion That the analyst's Reactions La nozione Che le reazioni Dell'analista Are virtually Entirely Attributable To the patient's Projections And inputs Sono virtualmente Attribubili Solo alle proiezioni Del paziente È abbastanza Irrealistica Insofar As it posits The analyst Nella misura In cui Stabilisce Che l'analista As if not A blank screen È Se non Uno schermo Bianco At least A tabula rasa Almeno una tabula rasa Aspetta di ricevere impressioni Dal mondo esterno Non so se Questo Adressa La tua questione No possiamo stare Anche un po' di più Bene Bene Abbiamo un po' di tempo Vediamo chi vuole Maiullari Vuole intervenire Volevo chiedere Solo questo Se ci può fare Un'anticipazione Al libro Che ha detto Che scriverà Nel quale Affronterà il tema Di specificare Quali sono Le problematiche Valide Che restano E quindi vale la pena Di conservare E quali invece Quelle che Devono essere abbandonate Per cercare Allora in questo senso La domanda è questa Qual è il destino Dell'edipo In questo In questo futuro Nuovo libro Ecco Perché Nella relazione Nella conferenza Di questa sera Non se ne è parlato Perché è stato uccisi Il padre Perché non se ne è parlato Ho visto Che nel libro Ci sono un paio di pagine Ecco Se può dire qualcosa Grazie Thank you Well The question is terrific It's as if I Planted The question Because So far What I've outlined In the future book Is to take Core concepts Forget about Theory For example Like How do we understand The nature of defenses How do we understand Unconscious processes In the light of Come concepiamo I process inconsci Alla luce delle scoperte What is the role In a conflict Quello è il ruolo Del conflitto interno E uno dei capitoli Is What is the status Of the Oedipus Complex In today's In today's Psychoanalysis So And by the way Tra l'altro And totally ignored By most analysts Letteratura Che peraltro È quasi sempre Ignorata Degli analisti And again By the way It's relevant To the question You asked Isn't it Questo è rilevante Quello che diceva Meneguz Now There are some Fascinating Fascinating information And fascinating Possible answers To that question Obviously There's no time Now But to give you Just one example Faccio solo un esempio A distinction On the one hand Una distinzione Da una parte Between the claim Of universal Incestuous wishes L'affermazione Che i desideri Incestuori Sarebbero universali Which is very Questionable Che è discutibile And The claim Of a universal Incest taboo Which is highly Supported L'affermazione Della taboo Universale Dell'incesto Che è molto Supportata Now We conflate The two But they are Very different Noi mettiamo insieme Le due cose Ma sono molto diverse Tra loro In parte Mettiamo insieme Le due Perché Freud disse Il famoso argomento Di Freud Which we've accepted All these years Ma che probabilmente È sbagliato Is that If there weren't Such Power If there weren't Powerful Universal Incestuous wishes There wouldn't Be a need For equally Powerful Universal Incest Taboo Se fossero potenti Desideri incestuati Non ci sarebbe Stato bisogno Di fare un taboo That's just one example Of a core concept In classical theory Un concetto nucleare Della teoria classica That's crying out For a Re-examination Chiede disperatamente Di essere re-esaminato And one other comment Un altro commento Over the years In corso degli anni What we have found Quello che abbiamo trovato Is analysts themselves Have redefined the concept Li stessi analisti Hanno redefiniti il concetto Senza dire This isn't just a matter of language It's a matter of a basic thing Change in theory Non solo una questione di linguaggio Ma proprio una teoria che è cambiata For example Hans Lowald Many years ago In his article Called The Waning of the Oedipus Complex As a struggle For separation Individuation And totally Left out The notion Of incestuous wishes That it's now Viewed by him As a struggle To separate From the The maternal Figure And to Caffect And to Invest What Freud Called An extraneous Object Su un oggetto Esterno Di verso Della madre It's A wonderfully Rich Opportunity Quindi Un'opportunità Molto ricca And I think That kind Of thing Is Questo tipo Di cose Is What I think The field Is crying out For E quello Di cui il nostro Campo Ha disperatamente Bisogno Piuttosto che Battaglia Di una scuola Sull'altra But to Take Ciascuna Delle idee Fondamentali Della psicanalisi Vedere come Noi le capiamo Alla luce Delle prove Che abbiamo Research Evidence Clinical Evidence Clinical Experience Etc That's the Purpose Of the Book So thank You For the Question Grazie Quindi Della Domanda E Qualc'altro Collega Professionale Non so Differenze Tra la Badante A 12 Euro L'ora L'analista 100 Do Senti Che Sulla Faccenda Delle Edipo Le ricerche Di Malinoski Erano state Finanziate Da Marie Bonaparte Proprio Per Dimostrare La universalità Dell'edipo E quindi La conferma Delle tesi Di Freud Quindi come tesi Universale Della Individuo Umano E non Come Un artefatto Tant'è vero Che Malinoski In alcune Tribù Aveva scoperto Che Lo facevano Col fratello Della madre Un esempio Delle Cose Fascinanti Che Molti anni fa Nell'84 Un antropologo Sociologist Named Westermark Proposed What has been Called The Westermark Hypothesis Quella che fu Chiamata La ipotesi Di Westermark That When you Grow up In close Proximity With Someone Che quando Tu cresci In stretta Vicinanza Con qualcuno Sexual Interest Is not Intensified But dampened L'istinto L'istinto Sessuale Viene Estinto Si diminuisce Tipo Una sorella Con quella Persona And Freud Was aware Of the Westermark Hypothesis And dismissed In one In one Sentence But some Years ago A Researcher In Israel Studied 2700 Children Who Who were Raised In a Kibbutz Of who You're Going To Marry Is Who You Have Proximity With In this Case Of 2700 People There were Only 16 Marriages Furthermore Of the 16 All of Them Came To The Kibbutz After The Age Of Six So If You Ask How Many Intermarriages Were There For Children Who Came To The Kibbutz Below The Age Of Six The Answer Is Zero Which Is Extraordinary Now The Authors Presented This Data As Support Of The Westermark Hypothesis In Other Words He Argued That The Proximity Led To A Lack Of Sexual Interest In People In People Who Grew Up Together And That's Just One Of Many 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 Findings Which At The Very Least Have To Give Us Food For Thought About About Universal Of In Cestuous Wishes And The Context For Them And So On Just One Exampo If If Looking For A Comprehensive Theory About Sexuality And Human Nature You Can't Limit To The Data You Get From The Clinical Situation Wishes Prima di Limitarvi Insomma Alla Situazione Clinica Per Capire Questo Ne Ha Parlato Nel Su Articolo Di Western Mark Su Attaccamento Sessualità Se Vi Ricordate Uscito Qualche An Fa Sulla Revista Sì Appunto I Topi Messi Tutti Assieme In Un Spazio Piccolo Non Fanno Altro Che Sesso No E Diventano Anche Omosessuali Comunque Come Topi Nel Formaggio Usando Appunto I Suoi Suggerimenti C'è ancora Una Questione Marzio Dazzi Marzio Dazzi Vieni qua Venga qui Perché Se no Non Si sente Viene Registrato Io Volevo Chiedere Una Cosa Rifacendomi Alla Distinzione In Freud Tra Istinto E Pulsione A me Sembra Di Questa Cosa In Freud È Molto Importante Perché Freud Associa Più che Altro L'istinto A un Discorso Di Riflesso Mentre Invece Quando Parla Di Pulsione Interviene Una Struttura Altamente Differenziata Della Psiche Che È L'Io Cioè Praticamente Freud In questo Modo Mette Le fondamenta Di Tutta Quella Che Sarà Poi La Psicologia Dell'Io Almeno Io Ho Capito Questo Per Cui Questo È Fondamentale Anche Nel Discorso Della Risposta Motoria Che La Pulsione Provocherebbe Cioè Intervene A questo Punto Il Discorso Dell' Esperienza Della Riflessione Quindi Di Questa Di Questa Struttura Che È Appunto L'Io E Questo Implica Una Grande Differenza Tra Il Concetto Distinto E Il Concetto Di Pulsione Sì Ho Questo Grazie Grazie Sì Penso Che Hai Pienamente Ragione Poi La Traduzione Del Tedesco Ha Confuso Le Cose Ulteriormente Ma C'è Importante Della Distinzione Che Penso Che Tu Hai Sollevato Hai Chiarito Ho Repito Quello Che Hai Detto La Nozione Stessa Di Pulsione L'origine L'aspetto Nella Parti Biologica Dell'uomo Tuttavia Ha Una Rappresentazione Psicologica È Quello Che La Rende Interessante La Psicoanalisi Altrimenti Non Sarebbe Interessante Per Aggiungere Quello Che Tu Hai Detto Freud Defines A Drive As Having An Objekt An Aim And A Source E Una Fonte E La Source È Biologica Ma L'Object E L'Object È Profondamente Psicologico E Hai Abbastanza Ragione Che L'idea La Vicissitudine Della Gratificazione Pulsionale Coinvolge Immediatamente Le funzioni Dell'Io Infatti Il concetto Il concetto De Freud In parte Relazionale Il concetto De Pulsione Di Freud In parte È Relazionale Nel senso Che La Pulsione È Un Oggetto Ora Interessante Però Nella Nozione Di Freud Di Pulsione È Un altro Esempio Di Criar Di Chiarezza Quando Freud Ha Detto Che Inizialmente La Pulsione L'oggetto Sono Totalmente Separati Non c'è Alcuna Relazione Inerente Tra Pulsione L'oggetto Sarà Melanie Cline A dire Che Non Esiste Una Pulsione Senza Un Oggetto Nella Teoria Attuale Della Relazione Oggettuale Particolarmente In Fairbairn Is The Focus Has Been Entirely On The Object Relational And The Notion Of The Role Of The Object As One Element In The Drive Has Completely Disappeared So For Example For Fairbairn Remember That Famous Line Libido Is Inherently Object Seeking Not Primarily Pleasure Seeking So He Develops A Purely Object Relational Theory And There Is No More Drive The Only Drive Is To Seek Objects But For What Purpose We Don't Know To Seek Objects We Know Libido Is Inherently Object Seeking But Why What Is The Function Of The Object It Opens Up All Those Questions And If One And This Really Speaks To Mariana's Question Which I Don't Think I Answered Adequately If You Didn't Make That Distinction All These Issues Would Not Arise Non Fate Questa Distinzione Tutti Questi Problemi Non Sorgono Ho Risposto Bene Alla Tua Domanda Prendiamoci Qua Ok Thank you Thank you